L'Inter con Lautaro Martínez ha durato per fuori gioco dopo che c'è stata la vera rovesciata da parte di D'Ambrogio con la palata dell'Unione Lodella e la vina vincente di appunto Lautaro Martínez, ma comunque si accorre per la propria dei miei piedi, era in fuori gioco D'Ambrogio. L'Inter nel primo tempo ha fatto di più, ma in Milano comunque il contropiede ha sferato il vantaggio con Suso che ha sfruttato un errore di sensi che però poi ha sfruttato su lui e la fine è stato decisivo alla chiusura via a Samoa. L'Inter nel primo tempo ha fatto la conclusione.